si è raddoppiato e tra l'altro si è aperto anche altre specialità di modellismo edilizia nautica e poi i modelli là sono addirittura dinamici cioè sono impermeabili quindi si possono mettere solo un corso d'acqua su un laghetto e navigano tranquillamente come mai questa passione che ma se ci avevo il babbo motorista motore aeronautico tempo di guerra il nonno il mio nonno che era il suo capo e poi il babbo ha sposato la figlia di mio nonno è cominciato a otto anni prima si montavano i modelli senza neanche dipingere il deca niente si montavano si mettevano lì poi sono anche autocostruiti no a volte si qui esempio sul piaggio p108a ho autocostruito il muso perché l'ho già arrivato da quello che c'è nella scatola di montante si trova meglio il bic che ce n'avevo già un paio alcuni masterpiece di questa di questa mostra ma io direi con barcazioni che hanno tutto tutte le funzioni come quelle come quelle vere sono anche la sirena sono che non ha portato le comande ma poi sono repiche di quella che sono visibili al Porto Livorno per questo a via Reggio sono repiche di quella a Porto Livorno quindi se il momento non va al Porto Livorno viene qui a Chiarucci è chiaro è chiaro è una roba del genere come ho fatto io no dicevo poi come diciamo autocostruzione abbiamo le difficili ah sì sì è una star assoluta il buon Matteo Nocenti insomma e poi le mie slot cards che sono cioè si possono guidare sulla pista elettrica e sono tutte autocostruite meno le tre in vetrinetta la carrozzeria è autocostruita in tutte le altre ah c'è proprio dal lattoniere insomma dal disegno al ritaglio dei pezzi con le forbici perché sono di cartoncino ah questo è un cartoncino? grazie io ho scluso le tre in vetrinetta l'ho fatto solo una livrea mi fatto solo una livrea mi stampo anche la livrea mi stampo anche gli adesivi vanno disegnati e poi stampati le tre in vetrinetta hanno vinto il primo premio al rally d'Italia dell'anno scorso come miglior livrea come miglior livrea e voi siete un po' l'angolo? siete tutti battitori libri o c'è un gruppo? no c'è un gruppo su questo gruppo qui è su whatsapp su whatsapp ma è un gruppo chiuso poi per carità se qualcuno vuole cioè nel senso vi trovate, fate riunioni no ci si trova, si parla di non abbiamo una sera facciamo tutto, siamo fittizi come sera abbiamo un demodellismo un po' si è bellino vedi questi vecchi che si divertono come bimbi è impagabile vero? è vero, è vero è vero è vero è vero Grazie a tutti.